Mi trovo a Talsano in Viale Europa, più volte ho detto che questa città Taranto non è amministrata male, non è amministrata proprio, c'è un vuoto assoluto dell'amministrazione comunale, giustamente dice una persona passando, scusate la volgarità, Taranto stiamo nella merda, e ha perfettamente ragione, voglio farvi vedere anche nelle periferie, anche qui a Talsano in Viale Europa, che è un viale importante, importantissimo di questa borgata di Talsano, cosa fanno le ditte? Vengono, rompono, guardate, fanno i lavori, inseriscono nel suolo e nel sottosuolo quello che devono inserire e poi vanno via. Vedete qui abbiamo proprio una cartina di bombardamenti, arriva la SIP, SIP Telecom, ex SIP, va, rompe e poi se ne va, poi arriva Fastweb, poi arriva Vodafone, poi c'è giustamente l'acquedotto pugliese che non si fa mancare niente e alla fine vediamo questi lavori che pare siano stati fatti, questi lavori qui, vedete questo cemento che è stato buttato alla meno peggio, pare che siano lavori di Telecom, ma in ogni caso guardate, se ne vanno, buttano un po' di cemento e chi si è visto si è visto. Guardate, questa strada, le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno fatto sempre schifo perché si sono limitate a buttare un po' di asfalto. Vedete qui l'asfalto? lo vedete? Poi abbiamo le stranezze, qui abbiamo l'asfalto, qui abbiamo i mattoni, vedete un pezzo pavimentato, ma vabbè, lo stesso dall'altro lato, evidentemente ci sono i raccomandati, i fortunati, quelli che hanno l'asfalto e quello che hanno i mattoni, ma la cosa strana è che qui guardate, qui asfalto, asfalto, asfalto e qui hanno rotto, vedete? Hanno messo, hanno buttato un po' di cemento che peraltro si sta sbriciolando, guardate qui, guardate, perché sotto il cemento esce la terra, perché è stato messo alla meno peggio, guardate, non fa niente che mi sporco le scarpe. Qui addirittura si attraversa la strada e si sprofonda, guardate, rotto l'asfalto, buttate un po' di cemento, sprofondamente e si va in fondo, guardate, per metri, metri e metri fino a oltre la fermata dell'autobus. Cosa significa questo? Significa che i lavori pubblici, il settore patrimonio, non avvengono i controlli perché esiste un ufficio specifico dei lavori pubblici che si chiama manoufficio di manomissione appunto del suolo pubblico, ossia questo ufficio specifico deve controllare quegli interventi che vanno a manomettere il suolo pubblico e quindi l'amministrazione comunale attraverso questo ufficio di manomissione deve verificare. Cara ditta Telecom che hai fatto questi lavori, cosa hai fatto? Fammi andare a verificare perché se no io ti dovrei prendere per le orecchie e ti dovrei far ripristinare lo stato dei luoghi e in quel caso per legge si asfalta, si ripristina, si rifà il manto stradale nella misura dei due terzi, non la singola linguetta. Qui non si fa né i due terzi ma neppure si asfalta la lingua che è stata toccata, che è stata manomessa, ci si limita a buttare se ti va bene un po' di cemento, se ti va male ti rimane l'asfalto, ti rimane la terra, il terreno, il brecciolino e guardate qui, guardate, questo è un arlecchino, guardate, asfalto, cemento, con pietre e terra che esce, un disastro, un disastro e per completare il triste quadro guardate un po' i cordoli, in che stato stanno? Guardate, qui le cadute si ripetono più volte a settimana, davvero, proprio lo dico con dati alla mano, tra asfalto, tra marciapiede che non è un marciapiede ma è un percorso di guerra, ivi compresi i cordoli, qui le cadute non si contano più e poi giustamente la gente chiede i danni e il comune paga, ma quando il comune paga siamo noi cittadini a dover pagare, perché tutto avviene con le nostre tasse. E allora che dite? Nel centro la stessa cosa, nelle periferie la stessa cosa, la conclusione qual è? Che noi abbiamo un'amministrazione fantasma, l'amministrazione Melucci dal punto di vista politico-amministrativo è un fantasma e in questa dissoluzione, in questo evaporare, evaporano pure gli uffici tecnici. Qui a Taranto le ditte, lo posso dire volgarmente, fanno i cazzi loro, tanto l'amministrazione non le controlla.